La Nuova Rimini, la Nuova Rimini, sì, è vero, hanno sfondato tutto, perché qui una volta non si passava, ok? Quindi tu puoi fare lo sfondamento, il problema non è sfondare, il problema è come lo sfondi e cosa fai. Perché tu hai lasciato la ferrovia, che era una questione aperta, che andava spostata, a Pesaro lo fanno, quindi non è che non si può fare, si può fare. E lì potevi creare una nuova circonvalazione, il problema non è lo sfiato sul mare, è che tu hai chiuso la circonvalazione, cioè è come se a Bologna chiudessero lo statale, l'ho detto duemila volte, è come se a Roma chiudessero il raccordo nullare, capito? Rimini è una città piccola, ma d'estate fa due milioni di abitanti, hai capito? Hai gli alberghi pieni di macchie, cioè tu hai un sovrappopolamento enorme, quindi nelle macchine hai 50-100 volte il parco auto invernale, ok? Come fai a gestirlo, cioè io vado a Fano, a Fano hai solo sabato e domenica, come durante la settimana, sì c'è un turismo, ci sono alberghi ma sono meno che qua, capito? Io vado, Senigallia è già una città che assomiglia più a Rimini perché ha una ricezione alberghiera che è la più importante delle marche, ok? Mare molto bello, andateci, però voglio dire, sì, la sabbia la chiamano la spiaggia di Velluto, ok? Comunque, a parte questo, facciamo un po' di sponsorizzazione, mi sembra Roberto Mancini, il lavoro è anche fatto bene, il problema è che tu vai su e sei tutto bloccato, perché tu con il lungomare pedonale le regine non riescono a smaltire il traffico, ok? Perché questa è una cosa elementare, cioè tutto il traffico della statale è raddoppiato, perché comunque sia tu hai portato, l'ho sempre detto, tutto il traffico delle regine o sulla statale, cioè il traffico è invertito, no? Però tu bloccando una circonvallazione, che era la più importante, tra l'altro era molto bella, perché tu con la macchina, che uno dice, no, la macchina, criminalizziamo la macchina, facciamo una crociata contro la macchina, no, la macchina che cos'è? La macchina è un bene comune, la macchina è la più grande, quindi dove passa il treno? Vallo a dire quelli che abitano di là, ok? Cioè, qui passa il treno d'accordo, però se tu lo facevi passare di là da Covignano, che si poteva fare perché c'erano i progetti, liberavi, tu non hai liberato spazio, questo ti voglio dire, tu hai costruito nel costruibile, ma il problema è che non c'è più spazio per il traffico, e il traffico è una risorsa della città.